Gentili telespettatori, buona giornata. Il generale Roberto Vannacci, a ridosso della sua candidatura alle elezioni europee, viene indagato dalla procura militare sull'incarico a Mosca, sotto inchiesta per peculato e truffa. L'accusa che è ipotetica parla di falsi rimborsi e indennità non dovute. Indennità di servizio per familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati. Si è chiusa con almeno tre contestazioni l'ispezione ministeriale sul generale Roberto Vannacci. La relazione è stata già trasmessa alla magistratura e la procura militare procede per peculato e truffa. Peculato è quando ti fai rimborsare delle cose che non potevi farti rimborsare. Per esempio la Montaruli è stata condannata per peculato perché si era fatta rimborsare svaroschi, cene, cose non dovute, borse e altre cose. Quindi quello è il peculato. Peculato è quando ti fai rimborsare delle cose che non devi farti rimborsare o inesistenti. Mentre sono ancora in corso le verifiche avviate dopo la pubblicazione del libro Il mondo al contrario arriva l'esito dell'ispezione effettuata per ordine dello Stato Maggiore della Difesa che riguarda il periodo in cui ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca. L'informativa finale evidenzia criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate che secondo gli ispettori devono essere valutate dall'autorità giudiziaria. Dopo le polemiche dell'estate scorsa per l'uscita del libro su Amazon che è diventato un best seller Il mondo al contrario e prima di una probabile candidatura alle elezioni europee il generale dovrà dunque spiegare ai pubblici ministeri che cosa accadde davvero quando era il rappresentante della difesa in Russia. Un incarico che ottenne il 7 febbraio del 2021 e terminato il 18 maggio del 2022 quando Mosca cacciò 24 diplomatici ed esperti militari italiani per rispondere a una stessa operazione che aveva fatto il governo di Mario Draghi che aveva mandato via dall'Italia 30 fedelissimi di Vladimir Putin. In accordo questo lo fece con altri paesi europei e atlantici necessarie per ragioni legati alla sicurezza nazionale nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all'ingiustificata aggressione dell'Ucraina da parte della federazione russa. Venivano ipotizzate sospetti di possibili spie eccetera eccetera. Le verifiche su Vanna ci sono durate dieci giorni dal 20 novembre al primo dicembre 2023 e riguardano come sempre avviene la gestione amministrativa dell'ultimo quinquennio. Dunque anche gli altri militari che sono stati in Russia hanno ricevuto un'ispezione sui rimborsi spesa eccetera eccetera. Cosa hanno esaminato? I documenti contabili, le mail, le attestazioni di servizio ma anche interrogando il personale che si trova adesso presso la rappresentanza italiana. Sono tre i capitoli che evidenziano gli ispettori ministeriali. Il primo riguarda le autocertificazioni in virtù delle quali il generale ha partecipato e ha percepito l'indennità di servizio all'estero che è attribuita in base all'effettiva presenza dei familiari a carico nella sede di servizio estera. I soldi sono stati versati ma gli ispettori contestano il fatto che la moglie e le figlie di Vannacci fossero effettivamente con lui in Russia. Scrivono infatti che è emersa un'incongruenza tra la dichiarazione resa da Vannacci nel 2021 e i dati riscontrati sui passaporti diplomatici di servizio dei propri familiari. In particolare le date non coincidono con le giornate indicate nelle richieste di rimborso presentate dal generale e per questo gli ispettori chiariscono di aver provveduto a dare notizie alle procure militari e ordinarie di Roma. Il secondo capitolo riguarda invece feste e cene. Anche in questo caso Vannacci ha presentato l'elenco delle spese sostenute ma l'indagine ha evidenziato anomalie. Dicono così risulta che il generale Vannacci avrebbe chiesto e ottenuto rimborsi per spese sostenute impropriamente per organizzare eventi conviviali per la promozione del paese Italia presso ristoranti di Mosca piuttosto che presso la propria abitazione. In questo caso è stato il successore di Vannacci il colonnello Vittorio Parrella a smentirlo. Nelle liste dei partecipanti agli eventi era stato infatti inserito anche il suo nome ma lui ha dimostrato di non aver partecipato e anzi ha messo in dubbio anche l'effettiva organizzazione degli eventi. Tra le richieste presentate da Vannacci per ottenere la restituzione dei soldi anticipati riguarda una cena che sarebbe svolta nell'alloggio di servizio il 23 maggio 2022 dunque il giorno dopo la decisione di Mosca di espulsione dei diplomatici ed ecco l'accusa degli ispettori dal controllo dei vari titoli di spesa l'ispettore ha chiesto chiarimenti in ordine a un evento conviviale presso l'abitazione del generale Vannacci nella stessa data in cui risulta eseguito il trasloco dei mobili e delle masserizie della predetta l'abitazione. Poi ci sono i 9.000 euro per la BMW l'auto di servizio sarebbero 9.000 euro stati spesi senza giustificazione secondo i documenti analizzati dagli ispettori lo stato maggiore aveva autorizzato l'alienazione dell'auto entro il 31 ottobre e comunque al manifestarsi delle inefficienze che potevano richiedere onerosi interventi di manutenzione. Vannacci e il suo predecessore il generale Alfonso Miro non avrebbero però rispettato le disposizioni e per questo si è deciso per le valutazioni di eventuali profili di responsabilità amministrativa. Insomma vedremo quello che ne verrà fuori. Vedremo poi anche la reazione del generale e la reazione della Lega dove dovrebbe essere candidato alle prossime elezioni europee. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie